Un corso sull'approccio umanistico esistenziale nella prevenzione del disagio giovanile. L'idea è dell'associazione Crescere Insieme, che si avvale della collaborazione dell'Istituto Tecnico Commerciale di Fondi Libero del Libero e dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Monte San Biagio. Il progetto si propone di attuare una serie di interventi preventivi che partano da un'attenta analisi dei fattori di rischio e protezione per affrontare il fenomeno del disagio giovanile in tutte le sue espressioni emotive, cognitive e sociali. I ragazzi potranno avvalersi del supporto di esperti professori, tra cui la dottoressa Antonella Stefania Filastro, direttrice dell'Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale Luigi De Marchi di Roma, la dottoressa Vittoria Vardè, direttore scientifico della comunità Il Cenacolo ed il professore Alessandro Meluzzi, psicoterapeuta di ritorno a fondi nonché noto personaggio televisivo. Tra gli obiettivi del progetto risulta favorire le conoscenze sui fattori scatenanti e le manifestazioni del disagio e la creazione di un clima di empatia e accettazione incondizionata nel contesto classe, oltre al potenziamento delle abilità di riconoscimento, espressione e gestione delle emozioni e all'aumento dei livelli di autoefficacia e autostima. Tutto questo con un'unica importante finalità, permettere uno sviluppo adeguato del soggetto che possa esprimersi attraverso la scelta di comportamenti socialmente adattati. Il corso avrà inizio all'8 febbraio e terminerà il 16 marzo, atteso sicuramente dagli stessi ragazzi l'incontro con il professor Alessandro Meluzzi, che avverrà il 4 marzo alle 11, alla presenza delle autorità scolastiche e politiche locali, per tracciare anche un primo bilancio dei risultati raggiunti.